Allora, chiaramente quelli del cosiddetto codice rosso, i reati relazionali che sono notoriamente non solo all'attenzione ma sono purtroppo nella realtà ancora molto diffusi, troppo. Io credo che l'80-90% delle misure cautelari che la nostra procura richiede e che vengono concesse dai giudici riguardo questo settore. Oltre a questo i reati a danno degli anziani con tutte le percussioni psicologiche che l'anziano ha in termini di minore autostima quando non ha addirittura di vera e propria depressione che questi episodi determinano anche quando sono banali addirittura anche quando non vengono portati a conseguenze finali, quando truffe sventate. Però l'anziano subisce molto il trauma. E poi l'enorme mole con tante sottospecie di reati informatici che sono assolutamente diffusissimi e che con l'uso praticamente collettivo dei telefonini, i cosiddetti smartphone, ha determinato un esponenziale aumento dei rischi e a volte degli episodi di truffe o comunque di reati legati a questo mondo. Le istituzioni sono moltissime, quasi tutte pubbliche, ma anche qualche partner privato accreditato. Il supporto sarà reciproco. Le forze dell'ordine sapranno magari avvalersi a volte della ASL o di campagne che si possono fare nelle scuole. Ma anche, per esempio, la scuola saprà quando un determinato studente che ha fatto qualche dichiarazione o svolto qualche compito con strane dichiarazioni, con strane testimonianze, debba essere all'attenzione o meno delle forze dell'ordine. Quindi c'è un reciproco, un mutuo soccorso per cui non abbiamo e non potevamo creare nuove competenze. Semplicemente integrare al meglio le competenze che già ci sono.